C'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi a risolto giallo Buonasera e bentornati a risolto giallo dalla vostra Alessia Sorgato che già ride già ride, rido anch'io Nicolò Mazzavillani ma siamo in nero tra l'altro entrambi Ci siamo organizzati non perché siamo funerei perché stiamo per presentarvi un autore noioso, buio, fosco, anzi E' più giovane di noi in termini d'abbigliamento questa volta Anzi, guardate un po' che bel ragazzo che abbiamo qua Tra l'altro con Smile, Everyday, noi in nero È importante, sorridere tutti i giorni alla vita è importantissimo Angelo Basile tra noi con il suo aggettivo bippato Perché non si può essere troppo di parte Plenilunium Breve Molto gothic Breve storia del nostro incontro Basile racconta Perché Mazzavillani sostiene che io sia la stalker degli scrittori Ah beh, non è che sostengo, cioè ci sono prove provate Ma, ma, ci sono per converso scrittori che mi vengono invece presentati Noi abbiamo un soggetto che ci ha messo in comunicazione Ti ricordi com'è andata? Eh, no, devo essere sincero Allora, ritorno ad essere uno stalker Colpo di scena Palesemente traumatizzato, cioè da come è stato l'incontro Dove essere stato piacevole Questo è un colpo di scena Ma me lo sapevi? Prova a dirmi, vediamo se mi sapevi No, non me lo ricordo il nome Però mi ricordo che un giorno Colpo di scena No, perché voi dovete capire Voi dovete capire che io qua faccio la loro età No, no, allora, aspetta, aspetta Ho ricollegato, perché io ho pochi neuroni Qualcuno ogni tanto va Come Mazzavillani, anzi, più di Bellissimo Il plenilunium è arrivato anche qua Esatto, questa è una puntata storica, preparati Sì Già lo so, già vedo Sì, ma sentite che voce Deve fare il doppiatore sto qua Regia, usalo come doppiaggio Esatto No, la voce non è quella mia vera, no? Adesso è più Aiuto paura, chi è? Che c'è dentro questo corpo? No, più penseranno Guarda che sfiga Si può dire? Si può dire Guarda che sfortuna Basile che va dall'assorgato E gli viene la raucedine Ah In realtà no, è tutto studiato a tavolino Perché io Cioè ti sei esposto al gelido inverno Esatto, io per una settimana ho coltivato questa voce Proprio Mi sono esposto a qualsiasi spiffero di corrente Proprio per arrivare da te Con la voce da scrittore Con la voce da scrittore Bello Bella Bella Ah ci sei un po' di assenzio Ho anche un gin tonic Vedi quando un autore si immedesima così tanto nei personaggi È stato fortunato perché ha piovuto due giorni Esatto Tutto questo ovviamente per prendere tempo e per cercare di ricordare No in realtà adesso mi perdonerà l'intermediario Tra l'altro c'è pure un corvo C'è pure un corvo nelle palle Ma un giorno io ero Mi è venuto in mente Ti è venuto in mente Vai racconta Allora l'intermediario è Enrico Lenzi Esatto Che è un giornalista di Avvenire Eccolo lì Col quale io Al quale ho rilasciato un'intervista Ma non solo Poi abbiamo avuto modo di collaborare per altre faccende Sempre in ambito letterario Il quale mi ha messo in contatto poi con te Vedi che mi sono ricordato Perché questo Lenzi molto carino Mi chiama e mi dice So che lei si occupa Ah si usa del lei So che lei All'inizio si Poi no So che lei si occupa Ma è vero che a Risolto Giallo Vi piacciono soprattutto gli autori che ambientano a Milano Perché io ho tra le mani una cosina interessante In un quartiere un po' non proprio del centro Dimmi che quartiere è E questo mi nomina Baggio Che a me piace tantissimo Allora subito Subito immediatamente ci siamo scritti Mi è arrivato il libro Me lo sono guardato Letto E io quindi partirei dal nostro comune denominatore Baggio Baggio Allora Baggio Baggio e Angelo Baggelangelo Baggiangelo 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 Baggio e Angelo Che fai Baggio? Guardate che Ritorna molto nel mondo giallo di Milano Dicci Allora è vero ci sono altri autori che hanno inventato le proprie storie Baggio Io le conosco ovviamente Immagino Però dato che mi piace essere originale Sono stato il primo e l'unico al momento Ad inventare una storia con all'interno un licantropo a Baggio Qua abbiamo dato il primo Allora perché Baggio? Baggio perché Intanto io ci vivo E quindi Da sempre? Da sempre no Mi ci sono trasferito per amore Per seguire la mia ragazza Che adesso è diventata mia moglie Quindi sono un tipo Come dire Persistente La quale ci viveva da sempre? La quale ci è nata Sì Ok Quindi Quindi le notizie te le dà lei? Le notizie me le dava in principio Lei adesso è qualche anno già che vivo a Baggio Quindi insomma Ho imparato a conoscerlo E Baggio perché Per diversi motivi Appunto il primo perché ci vivo E perché io sento sempre Salute Fate effetto contrario Invece di andare in avanti Se andate in visto Alla fine della trasmissione Ti voglio con la stessa voce Esatto Con l'immedesimazione E soggetto ecumenico No ti stavo dicendo che appunto ci vivo E io seguo sempre la prima regola C'è un farmacista nel pubblico C'è un infermiere peraltro Non ne usciamo più No la prima regola La regola d'oro dello scrittore secondo me Cioè scrivi di quello che sai Quindi è meglio di ambientare un romanzo Nel posto in cui vivi Non c'era In quel momento Quindi l'ambientazione è reale Assolutamente sì È tutto vero Vie, chiese Sì Quindi tu potrai andare a Baggio Negozi? Quasi tutto Allora c'è un negozio che non esiste Che è un'erboristeria Diciamo Gli altri invece esistono Quelli che cito per nome Diciamo esistono Anche la pasticceria? Vedi che Questa della pasticceria è una roba Ricorrente Perché descrive certi pasticcini Domenica vado lì a far colazione Esatto No ma dovrebbero Cioè Offrirmi un vitalizio Cioè una collezione Grazie Perché tutti mi dicono Adesso Tutti quelli che leggono il libro Vogliono questa pasticceria Ma guarda Allora ho fatto un'intervista Per dirti A Radio Capodistria Cioè cinque minuti a parlare del romanzo Il resto Arrivano da Portorose adesso A cercare il carta da zucchero Ti giuro Ho partecipato A un festival A crema Come si chiama? Inchiostra Brava E l'ideatore di questo festival Lorenzo È stato nostro ospite da poco Smettila però di anticiparlo Cioè fallo parlare Anche lui No no Perché così Intanto Si collegano Dai saluta Sartori Scusa È stato qua da poco Ciao Sartori È quello che fai i video Che tu eri tutto ingorillato Su questo lavoro Che fa Lorenzo No è bellissimo Saluto anch'io Ciao Lorenzo Che è venuto a Baggio È venuto a Baggio Dopo aver letto il libro Perché era incuriosito Dal quartiere E voleva la pasticceria E siamo andati L'ho portato a fare colazione Da carta da zucchero Guarda che anche io Voglio venire in giro Con te e tua moglie Perché così si visita un quartiere Con il libro E poi con chi come te Lo ama Perché al di là di conoscerlo Direi che a te piace dai pazziere Ma cosa ti piace di Baggio? Perché Poi ti lascio la parola Se c'è una caratteristica Di questo romanzo Che si può tranquillamente dichiarare È che A volerlo proprio definire E io mi ci sono provata Lo definisce un romanzo corale Perché c'è la storia C'è la trama Ci sono gli omicidi E sono anche abbastanza splatter Il ragazzo qua fa l'infermiere Quindi è bravissimo A raccontarti I dettagli anatomici Truculenti Che noi poi qua abbiamo fatto Anche una puntata Ma è vero Ma la cosa che a me È piaciuta tantissimo È che arriva sempre un momento All'interno della sua narrazione Nella quale ci dice In quel momento Cosa sta facendo l'erborista Cosa sta facendo la pasticcera Cosa sta facendo Cioè è proprio il borgo di Baggio Che respira insieme Questo Angelo Questo lo fai solo tu Grazie Di tutti i romanzi Che io ho letto in vita mia Questo lo fai solo tu Ed è bellissimo Ti sei già guadagnata La colazione Che ti offro io volentieri Lei puntava a questo Lei puntava a questo Se va avanti così Arriviamo anche al pranzo E' un po' E' un po' Perdonatemi il paragone Un po' spinto Un po' alla Allende No? Che ha queste saghe Le sue sono familiari Le tue sono addirittura Di un quartiere Di un rione Di un borgo Perché Baggio Era un paese a sé Baggio fino al 1929 E' stato un borgo A sé stante Poi dopo è stato inglobato No scusa 1923 Ho sbagliato Chiedo scusa Poi è stato inglobato Da Milano Diciamo Non per volontà propria Ma per un atto di costrizione Del governo fascista Di Mussolini Che voleva appunto La grande Milano E quindi ha deciso Di accorpare Tutti i diversi quartieri Tra cui Baggio Chissà come l'hanno vissuta bene Ma direi non tanto L'ultimo sindaco Democraticamente eletto Di Baggio Al quale è dedicata Una piazza Che è Piazza Stovani Era il sindaco Stovani E' dovuto poi fuggire Sì sì E' stata una roba Insomma non proprio Ci furono le squadracce fasciste Ad occuparsi di questa Ci sta benissimo La tua domanda No in realtà Io dovevo fare un'altra Poi arrivo all'altra Quella la teniamo sempre Per la fine No io dovevo In realtà due Vabbè la prima classica Come nasce il tuo rapporto Angelo con Con la scrittura E Da dove è nata L'idea di scrivere Un giallo Con tratti Del Del sovranaturale Sì Quanto tempo abbiamo Ma io Alle nove avrei una cena Però va bene No Posso chiamare Perché Perché non ce ne sono Capitati tanti di autori Che Hanno scritto gialli Con dei tratti Del sovranaturale E' una cosa Piuttosto nuova Anzi se tu volessi Anche tirare fuori Un genere A cui pensi Che Plenilunium Possa Rispondo a tutto Volentieri Allora Intanto Il rapporto che ho Con la scrittura Io ho sempre scritto Nel 2016 Ho partecipato A un concorso letterario L'ho vinto Il Il primo premio Consisteva nella pubblicazione Per cui da lì Ho iniziato a pubblicare Ho visto che comunque le cose piacevano Quello che scrivevo Quindi ho iniziato a mandare Racconti come fanno Penso moltissimi Ai vari concorsi Ho iniziato a vincerli Ho iniziato a pubblicare i romanzi E quindi Da qui è nato tutto Ehm Allora Il Il genere È un giallo Allora io quando ho scritto Prenilunium Ero assolutamente convinto Che stessi scrivendo Un giallo Cioè l'idea di partenza Era un giallo Era quella Poi l'ho iscritto Al Al Giallo Garda Ok E dove invece Ho vinto come miglior romanzo Urban Fantasy Quindi ho scoperto Di aver scritto un urban fantasy Che Mi va benissimo Urban fantasy Ci mancava Ci mancava Definizione di urban fantasy È un fantasy Ambientato appunto In una In un borgore Ale In un contesto reale In un contesto reale Certo Non immaginato Esatto Che può avere Delle connotazioni Di giallo Come in questo caso Sicuramente di fantasy Perché è l'elemento Sopranaturale Perché allora Prenilunium Tratta Diversi temi Ovviamente Tratta anche Il male E lo tratta Su due piani Paralleli Distinti Ma paralleli Il piano reale E il piano sopranaturale Il piano Sul piano reale Viene incarnato Da un personaggio Che è questo Medico Così Ben inserito Nella società Eccetera eccetera Che poi Si rivelerà Essere uno stalker E anche peggio E quindi C'è Diciamo Il rapporto malato Che ha con le donne Questo romanzo Tratta anche in parte Mi sono permesso Con la massima umiltà Di trattare anche Del tema Della violenza Sulle donne Purtroppo Questo personaggio È assolutamente Reale Ed è Ascrivibile Purtroppo A tutti i vari Fatti di cronaca Che quotidianamente Leggiamo sui giornali Dall'altra parte Sull'altro piano C'è il male Invece incarnato Ormai l'ho detto Quindi non è più un segreto Da questo licantropo Che si aggira Nei vicoli di Baggio E che rappresenta Lo stesso male Però Dal punto di vista Appunto Sopranaturale In modo che il lettore Possa In qualche modo Esorcizzarlo Perché è più semplice Forse Esorcizzare un male Così lontano da noi Così lontano da noi Piuttosto che invece Cercare di Capire Esorcizzare O combattere Un male Che invece è reale Ma che Per alcuni versi È molto più Nascosto Molto più subdolo Mentre invece Quello Diciamo Sopranaturale È talmente evidente Quindi c'è un male Reale Un male Personificato Cioè Aperta Parentesi Voi sapete che Io mi occupo Soprattutto di questa materia Dal punto di vista Professionale E non tutti sanno Che ho cominciato Proprio con Il CAV Dell'ospedale San Carlo Dove Angelo Basile Presta servizio Per il quale Sono stata la fiduciaria Per almeno dieci anni Fintanto che esisteva Soccorso Rosa E devo dire Che il personaggio Che Basile Ha creato E che adesso Definisce lo stalker È veramente Inquietante Perché ha un'apparenza Alto-Borghese Di profilo Assolutamente Rispettabile Anzi Molto di più Perché è un primario Ma è giovanissimo E sotto sotto Dietro la facciata È una schifezza D'uomo Per i pensieri Proprio che ha E questo La domanda qui È d'obbligo Però te la deve fare L'avvocato Sorgato Non l'Alessia Di Risolto Giallo Come e chi Ti ha ispirato A questo personaggio Perché Allora Essendo infermiere Ti corrego Se posso Mi permetto Scusami Non lavoro All'ospedale San Carlo Ci ho lavorato Non ci lavoro attualmente Ah perché Io da qualche parte Ho letto questo No no Ci ho lavorato Ci ho lavorato Peraltro L'ospedale San Carlo Che descrivo In plenilunium È l'ospedale San Carlo Che ho conosciuto io Che risale A forse 20 Più di 20 anni fa Perché adesso Per esempio La reanimazione Che io ho ambientato Al decimo piano Era al decimo piano Quando io ero a San Carlo Adesso non è più al decimo piano Si può dire dove sei adesso? Sì se vuoi Sei un'azienda privata Posso fare pubblicità Sì Sì No perché è bravo Furia mai che mi serve Beh chiedo Basile c'è oggi in servizio? Guarda io lavoro in sala operatoria In Vista Vision Che è un'azienda Operatoria Ci arrivi che dormi Oddio Conoscendomi magari sono ancora un po' Nei dormi meglio E parlo Vista Vision quindi? Vista Vision si ci occupiamo È l'azienda leader in Italia Per quanto riguarda La chirurgia oculistica E io ho la fortuna di lavorare con loro da diversi anni In sala operatoria Che bella materia per il prossimo giallo Ok A te Noi quando abbiamo avuto Lucio Besana Ti ricordi? Certo Io ero impazzito Lucio Besana scrive un po' weird Un po' horror Esatto Abbiamo imparato a conoscere molto il mondo horror Nonostante sia un mondo abbastanza complesso Però ti dico Plenilunium Plenilunium È un titolo che Premessa Non sapevo niente del libro Però quando l'ho letto E vista l'immagine Che tra l'altro è un'immagine Veramente bella e suggestiva Ho detto Caspita questo è un horror Ma dai Ho avuto questa sensazione Tu però Mi sembra Angelo Che lo definisci comunque un giallo Ci sono diversi elementi Sicuramente c'è anche l'horror Hai ragione tu Sicuramente c'è l'elemento del giallo Ci sono diversi elementi in questo romanzo Ci sono un po' di cose Allora Plenilunium È stata un po' una sfida Nel senso che Questo genere di letteratura Legata In questo caso all'alicantropia Non è che sia un romanzo Diciamo Sulla licantropia C'è anche questo elemento Però è un elemento caro Come ben sapete Ha un certo tipo di letteratura D'oltreoceano Basti pensare a le varie saghe Di Mi viene in mente Un solito Twilight O anche cinematografiche Un lupo mannaro americano A Londra O a Parigi Ma in realtà Questo genere di letteratura Nasce da noi Per esempio Nelle metamorfosi di Ovidio È descritta La metamorfosi Da uomo A lupo Nel terzo secolo C'è un certo Petronio È un autore latino Che descrive Dettagliatamente La trasformazione Da uomo Indicantropo Quindi Diciamo Mi sono Per così dire Riappropriato Di qualcosa Che in realtà Ci apparteneva Ci apparteneva E la sfida Era ambientare Questo genere di storia In una periferia Ecco che Torniamo a Baggio Perché Quelle di Oltreceo Non sono tutte ambientate In queste Gran Periferie americane Io invece L'ho ambientata In una periferia italiana Quindi è stata un po' Che secondo me È anche più bello Perché Anche C'è capitato Anche Quando abbiamo avuto A che fare Con altri autori Che svolgevano Le loro Le loro storie In piccole aree Che crea Comunque Una sorta Anche di Angoscia Perché sai Un piccolo spazio Si conoscono tutti Esattamente L'atmosfera Che ha descrive lui Sono quelle atmosfere Che Quando vengono Magari Anche riproposte In quelle Sorti Di miniserie Anche di film Thriller Dove c'è L'investigatore Che viene mandato In questa piccola città Sconosciuta Secondo me Sono veramente Molto più coinvolgenti Perché Sono spazi piccoli Ci sono pochi personaggi La storia si svolge Tutta lì E quindi Crea anche Tutto Una certa angoscia Un certo ritmo Che forse Se ambientati In grandi città Che possono essere Londra Milano Che Magari Quello va un po' A per Invece Se ambientati In quei piccoli quartieri Quel senso Di terrore È ancora più Accentuato Era voluto Anche da parte tua Sì sì La periferia Ripeto A parte Per questo motivo letterario Però avevo bisogno Di creare anche Di creare anche un parallelo Se vuoi metafisico Nel senso che Prenunium indaga Quello che è la periferia Dell'animo umano Quindi tu parlavi Prima di questo professionista Che si mostra In un modo Ma in realtà È in un altro E vedi anche qui Torna ancora Il discorso della luna Le due facce della luna La faccia illuminata E la faccia invece scura E quindi Essendo la periferia Dell'animo umano Quello che mi interessava Indagare In questo romanzo L'ho ambientato Fisicamente In una periferia Di una città Che conosco bene Tra l'altro Niccolò Il fatto che Vi dicevo prima Che lui spesso Inframezza Il suo tracciato Narrativo Relativo Agli omicidi Con quello che invece Gli abitanti Del quartiere fanno Questo Rende la cosa Ancora più asfittica Perché tu sei lì Che leggi quella pagina E dici È chiaro Che è uno di Baggio Perché lui Te lo fa capire benissimo Che è uno di loro Ma chi di loro Perché mi piacciono Tutti questi personaggi Sono tutti Molto carini Tra di loro Molto solidali Ma sono anche Delle persone carine Per cui Domanda Senza svelare Alcunché Mentre per il medico Questo essere doppio E così Sinceramente cattivo Perché la vera natura È quella Non è certo Quella che appare Sembra voluto Doloso Nel personaggio Del licantropo Tu hai fatto Una scelta diversa Hai operato Una scelta diversa Come mai Questa dicotomia Così importante Perché secondo te Si può scegliere Di essere cattivi Può capitare Di diventare cattivi O perché la vera cattiveria È soltanto quella voluta Perché No allora Secondo me Il germe Per così dire Della cattiveria È presente In ognuno di noi Insieme a tanti altri Anche in mazzavellani Soprattutto 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 In mazzavellani E tu l'hai già colto In parte Devo stare Attenta Stai qui con me Qualche altra puntata Per favore No dicevo appunto Il germe Secondo me è presente In ciascuno di noi Poi sta a noi La scelta Se coltivarlo O meno O insomma Contrastarlo Quindi La cattiveria È voluta Fa parte Dell'animo umano Sono forme diverse Però la cattiveria C'è Sì sì Assolutamente È vero Assolutamente Secondo me sì Devo farti però Un complimento Perché sei stata Una delle poche Elettrici Che Questo me l'ha confidato Diciamo La telecamera è spente Che è riuscita A scovare A capire Chi fosse L'icantropo Che telecamera è spente Gli ho mandato un messaggio In diretta Ho fatto una foto Della pagina del libro E glielo ho mandato E allora Sei stata Veramente in gamba Adesso Non è per vantarmi Ma lo faccio Perché In pochi sono riusciti Perché l'intento Ovviamente È arrivare All'ultima pagina Non sapendo Chi sia L'icantropo E scoprirlo Veramente Neanche all'ultima pagina Proprio alle ultime righe Invece Ma Ma l'hai individuato Esattamente Precisamente No No Quello che ti ho mandato Era 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 l'idea Poi chiaro che no No Eh sì Allora E allora Tra l'altro Me lo sono portato In un'udienza Ad Arezzo Invece di studiare La pratica Legge Lui Vergogna Bene Bene Signore Il tempo Il tempo è l'icantro Poi Esatto Peccato Si è mangiato La nostra luna Basile però torni Torni a raccontarci Futuri progetti C'è qualche libro Un seguito Cioè No allora Completamente diverso Anche come genere Come genere Diverso Perché sarà Una Una favola gotica Beh Eh beh Ma allora Allora deve venire Assolutamente Allora volentieri Uscirà l'anno prossimo Una favola gotica Non si può dire altro No No Va bene Ok Allora Dalla favola gotica Ai licantrofi A baggio Dalla favola gotica assorgata Ai pasticcini E alle donne che capiscono Come va a finire il giallo Buona serata Buona serata a tutti Grazie 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 mille a voi Grazie Angelo Quanto c'è di giallo Nella vostra vita? E quanto c'è di Noir Nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi A risolto giallo